Il dottor Stephen Finch era l'uomo del Natale. Indossiamo sempre maglioni tutti uguali per la cartolina di Natale. Fino a quando non arrivò la concorrenza. Sono Buddy Hall. Loro sono le mie bambine. Io voglio vivere qui. Papà, guarda! Dallo spazio si vedono tutte le case del paese. E la nostra? La nostra no. Speravo che un giorno avrei fatto qualcosa di importante. Buddy. Io sono l'uomo del Natale. No, non credo. Ora si affrontano senza esclusione di colpi. Guarda e impara. Per le feste. Avrà un bell'occhio nero. Ma le feste... O gli alberi dei prossimi cinque anni tutto in fila. Possono non essere abbastanza grandi. Per tutti e due. Sono io l'uomo del Natale. Non è ancora finita. Vuoi staccargli la corrente? Arriva! Vorrei uscire. Tritto, così. Questa cosa deve finire. Vuoi le luci? Te le do io. Oh, cavolo. Sicura di averlo annaffiato? Ha preso fuoco così in fretta. Questo Natale. E la cosa che veramente voglio è che la mia casa si veda dallo spazio. Scherziamo, Gesù! Cristo Redentore. Danny DeVito. Steso! Matthew Broderick. Mi piace come gli hai attaccato le corna con il nostro adesivo. Nella più luminosa storia natalizia mai raccontata. L'ho detto che erano ombrosie. Ti prego! Poteva finire peggio. Conciati per le feste. Su quelle siamo d'accordo. Ehi, il tuo paparino chi è? Papà! Oddio, paparino sono io. Gnocchi! La, 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 la